Ciao e benvenuto all'interno di questo video, io sono Alberto Ranzato, il creatore di comunicazione carismatica e autore del libro Comunicazione Carismatica. Con la mia azienda di formazione, attraverso corsi e consulenze, formiamo, aiutiamo centinaia di persone, di professionisti, imprenditori, manager in giro per l'Italia e per il mondo a migliorare la voce, la comunicazione, il carisma, l'efficacia comunicativa per ottenere più risultati nella vita personale e di business. Oggi sono qua con il ranzatino e ho deciso di farti un regalo all'interno di questo video, ovvero un'intervista straordinaria a un grande maestro. Sto parlando di Francesco Padrini, un grande psicoterapeuta bioenergetico, nell'ambito della bioenergetica. Francesco era, perché purtroppo è venuto a mancare nel 2020, era un grande psicologo, psicoterapeuta, sessuologo e esperto nella bioenergetica, questa disciplina di analisi bioenergetica che era partita da Reich, poi sviluppata come bioenergetica da Lowen, di cui Francesco era un allievo, aveva collaborato con Lowen e poi io ho avuto il grande piacere, il grande onore di poter studiare e anche collaborare con Francesco. Francesco aveva scritto anche il prologo del mio libro Comunicazione Carismatica. Bene, all'interno di questa intervista dura un pochettino di tempo, ma è ricchissima di valore, quindi prenditi il tempo perché scoprirai delle perle pazzesche, pazzesche, e quindi guardatela, capiremo un po' che cos'è il carisma, capiremo che cosa sono le emozioni, capiremo come il corpo entra all'interno della comunicazione, capiremo che il corpo non mente, al contrario di quello che potrebbe fare la mente o la voce o quant'altro, capiremo la differenza tra manipolare e manovrare, capiremo quelli che sono i processi energetici, insomma ci sono veramente tantissime, tantissime cose che scoprirai all'interno di questa intervista veramente straordinaria. Compadrini, io collaborai, dopo che studiai con lui collaborai, per un po' diciamo un implemento di alcuni aspetti della bioenergetica, ovvero la bioenergetica si occupa, te lo dico molto velocemente, poi te lo spiegherà meglio Francesco, di quella che è l'integrazione di mente, cuore e pelvi, quindi respirare, muoversi e commuoversi per riuscire ad arrivare a un'integrazione di tutti questi aspetti e ritornare alla fluidità dell'esistenza, quindi riuscire ad essere vivi e vibranti, smettere di sopravvivere e iniziare a vivere, ricordandoci di respirare, di muoverci e appunto di commuoverci, di entrare in contatto col mondo emotivo. Cosa stavamo facendo insieme? Beh era un po' un'integrazione di questi aspetti della bioenergetica con anche gli aspetti vocali, quindi sfruttare la bioenergetica anche come motore ulteriore per eliminare blocchi emotivi e liberare la voce, quindi qualcosa di veramente molto interessante. Bene, nel 2015 io li feci questa intervista, nel 2015 lo conobbi, feci questa intervista, poi iniziai a studiare, a lavorare insieme con lui. E' un'intervista, ripeto, molto ricca di significato, molto ricca di informazioni importantissime e quindi ti invito veramente a prenderti il tempo per guardarla fino in fondo. Dopodiché se questo video ti piace o ti è piaciuto o ti piacerà, insomma metti mi piace a questo video, metti anche un commento delle cose che ti hanno più colpito di Francesco. Francesco purtroppo non c'è più perché nel 2020 ci ha lasciato, però questa intervista rimane, rimane e ci ricorda della grande persona e del grande professionista che era. Dopo aver visto anche questa intervista, troverai all'interno della descrizione anche un link a un video training gratuito dove ti spiego un pochino di più che cos'è comunicazione carismatica, quali sono le quattro emozioni principali del carisma che devi saper dominare, devi saper generare in te e negli altri ogni volta che desideri per ottenere il massimo dei risultati. A questo punto ti saluto e ti auguro buona visione con Francesco Padrini. Ciao! Sono qua col dottor Francesco Padrini che è un dottore in bioenergetica, psicoterapeuta, psicoterapeuta, cioè mi occupo di terapie analitiche psicocorporee, dove il corpo integra la parola in una modalità veramente integrata, unita. Infatti questa disciplina bioenergetica cosiddetta è comunemente vista come bioenergetica, ma nasce proprio da un processo analitico che è l'analisi bioenergetica, che è un'analisi come se fosse analisi freudiana, junghiana, lacaniana, questa è un'analisi psicocorporea a differenza delle altre, perché? Perché mette il corpo in terapia. Quindi se le altre psicoterapie lavorano prevalentemente o quasi esclusivamente sulla mente, questa lavora sul corpo. Capito bene? Esatto, è una terapia che utilizza la verbalizzazione, ma focalizza un'attenzione selettiva a ciò che noi esprimiamo verbalmente e di ciò che noi sentiamo. Ciò che noi sentiamo, espresso verbalmente, è un rapporto diretto col sentire, col corpo e quindi col sistema vegetativo che è l'inconscio. La cosa che mi è piaciuta di più infatti della bioenergetica è questa focalizzazione più che al pensiero, quindi alla mente, alla razionalità, invece al sentire, quindi al cuore, all'autenticità e all'autoespressione. e quindi il corpo comunica anche? Il corpo è il depositario di tutta la nostra storia, di tutte le nostre emozioni, di tutto il nostro vissuto e come tale non può fare a meno che comunicare la vera realtà della nostra vita, del nostro vissuto. ed è una comunicazione su due livelli, una comunicazione che può essere vista sul piano verbale, sul piano dell'io e che uno dice quello che si è prefissato di dire in quel momento, in quel contesto, in funzione di quello che gli altri si aspettano che dica. Però c'è anche quest'altra parte della comunicazione che è il linguaggio corporeo e il linguaggio corporeo sappiamo che è un linguaggio veramente vero perché non munti. Noi tendiamo a mistificare questa espressione che molto spesso si identifica con la menzogna quando diciamo che dobbiamo mentire, però il nostro corpo parla e dà un'attenta visione analitica delle espressioni mimiche facciali del viso, questi muscoli espressivi, cosiddetti muscoli pellicciai o della struttura del movimento, delle articolazioni superiori o inferiori e lì si rivela la menzogna e ciò che è molto interessante vedere è che con noi siamo abituati a mentire col viso e allora col viso noi di fronte a una situazione che sappiamo che è decisamente non vera e noi abbiamo dei movimenti reali della menzogna che sono quelli veri che esprime l'espressione emotiva collegata col sistema vegetativo di motilità e una controrreazione nei tempi di una frazione di secondo di correzione. Quindi siamo bravissimi col viso a poter mentire a colui che ci sta guardando in modo un po' distratto oppure che non pensa a questa cosa, mentre ciò che è molto interessante vedere è che invece con le articolazioni inferiori più ci allontaniamo dalla testa più i movimenti avvengono in modo libero e lì noi vediamo l'aumento di tensione della persona. dato che la menzogna non è altro che un aumento di tensione del corpo che si verifica attraverso dei processi che possono essere il rossore, la sudorazione, questi sono aspetti che tutti conoscono. Poi ci sono degli altri aspetti un po' meno visivi che sono quelli proprio del movimento delle articolazioni superiore e inferiore della modalità dei contatti viso-mano che ci dicono che la persona è in un momento di aumento di tensione. Adesso dato che la menzogna c'è sempre una situazione di aumento di tensione, ecco che noi associamo molto spesso allora quello sta mentendo, però bisogna fare molta attenzione perché non si può collegare direttamente alla menzogna. Quindi la menzogna aumenta la tensione emotiva, fisica insomma della persona. Cosa accade invece quando una persona dice la verità? Quando dice la verità la persona è più integrata, l'energia è più alta perché non deve investire dell'energia per andare a chiudere, a soppire tutte le ansie dovute alla menzogna. Ed è molto significativo questo vedere per esempio come i bambini o i cani, cioè che sono più collegati al sistema vegetativo, the second brain, alla pancia, che è il nostro secondo cervello, un cervello molto intelligente, tutti pensiamo che con la testa noi facciamo tutto, ma chi ci governa è il sistema vegetativo, che è un sistema precognitivo, che è l'inconscio, che è governato dai movimenti di motilità, che sono movimenti involontari. Che questo nostro sentire è l'aspetto che esprime tutta l'energia e questa energia è massima quando la persona è libera, è tranquilla, è serena, non ha nulla da nascondere, allora può esprimere completamente il proprio sé con la mente, col cuore e con la pelle, col bacino, che ha due appendici che sono le gambe e i piedi che ci permettono di essere in contatto col terreno e che il terreno simbolicamente rappresenta la realtà. Quindi se una persona ha un aspetto in cui il processo mentale o verbale, meglio, esprime un qualche cosa che contraddice l'aspetto gestaltico corporeo, che cosa credere ai due? Lo vediamo subito. Vediamo il politico che dice Bisogna fare la pace! E il cagnolino E allora cosa succede? Bisogna fare la pace? Ha espresso un'espressione di guerra. E quindi ciò che avviene come, diciamo, depositato nel nostro inconscio, come verità, è il conflitto e la guerra, non è la pace. Sul piano cognitivo è la pace, ma è una pace che non può essere creduta. Quindi, dottore, dato che ha parlato che, da quello che ho capito, chi mente ha più tensione, quindi è anche meno autentico, proprio perché mente, mentre chi dice la verità è più radicato al terreno, è più centrato e più forte. Quindi, normalmente si parla, specialmente in Italia, quando si parla di vendita, dei venditori, ad esempio, quindi quando si entra nella parte business, oltre che relazionale, di vita privata, il venditore si associa, che il venditore è bravo, è quello che ti sa intortare, che quindi magari mente, cerca di venderti un prodotto in cui non crede. Cosa dire a questo proposito? Quindi, il venditore che non crede e dice le bugie, quanto è forte rispetto a uno che invece vende qualcosa in cui crede? Ed è giusto che venda qualcosa in cui non si crede? Quando uno vende un prodotto, deve avere la convinzione e soprattutto l'addestramento alla conoscenza profonda del prodotto, affinché diventi lui il prodotto stesso. Quando noi abbiamo una convinzione, che fa parte della nostra esperienza, del nostro vissuto, allora uno che vende un lucido da scarpe, facciamo un'altra, ecco, non può venderlo se non ha provato lui e ha avuto un buon successo, e ha avuto questa risultanza. Cioè, l'esperienza, noi lo vediamo nell'aspetto clinico, nella terapia anche, e io non posso a un mio paziente proporre qualche cosa, qualche esercizio, qualche modalità, che non è passata attraverso di me. Solo se passa attraverso un vissuto esperienziato, soggettivo nostro, che tocca non solo la mente, l'io, ma anche il corpo, il cuore, la pancia, noi abbiamo in questo caso, quel vissuto, automaticamente, un radicamento, quindi una sicurezza, una relazione col terreno, che dicevamo simbolicamente rappresenta la realtà, che ci può sostenere, e ci può permettere di attraversare le avversità, le conflittualità più ampie, perché noi siamo certi di quello. Allora, uno che viene addestrato alla vendita, deve avere la possibilità di sperimentare, di conoscere, e di essere lui per primo a dire voglio vendere questo, voglio utilizzare questo, voglio fare così perché è questo che io sento, perché malauguratamente, e ci sono purtroppo molti casi di bisogno, e uno si butta a soddisfare una situazione che gli capita, ma non si sente di fare questo, e allora ecco che non sentendosi, sentendosi, le persone con le quali si relazione, sentono che lui non sente, non è convinto, e allora purtroppo, ahimè, la transazione magari non avviene. Quindi, qui ci tocchiamo un concetto basilare, di quella che è la relazione interpersonale, o quella che può essere vista anche come situazione di vendita, anche se può essere vista questa parola un po' grigia, la vendita, l'abbiamo associata a situazioni un po' di commerciali, e quindi non così pure, come a volte il sistema ci fa vedere, però è una cosa bella, è uno scambio, e in questo scambio deve esserci un compiacimento reciproco, nel quale io ho fatto qualcosa per te e tu per me, è una bellissima occasione di condivisione, oltre che del prodotto intrinseco in sé, che poi è relativo, ma di una condivisione emotiva, relazionale, di contatto, di conoscenza, che noi siamo degli animali sociali, abbiamo bisogno di comunicare. Quindi ecco che, quando, malauguratamente, si verificano delle situazioni, dove purtroppo il campo dell'addestramento, oltre che della conoscenza proprio intrinseca, sul piano medico, clinica, o così procedurale, come si forma al sumo costruizzo, che è più un aspetto ingegneristico del prodotto, occorre proprio, la persona abbia toccato con mano, abbia provato, e si è passata attraverso di sé, e questo dà la tranquillità, di avere una semplicità espressiva, magari minimale, come parole, ma essenziale, come tipo di comunicazione, e come modalità di fiducia, uno si affida, all'altro, perché ha acquisito la fiducia, e questa è la cosa, prima ti fidi, poi ti affido. Bravo, lei è maestro d'arte in questo, quindi è lei che deve insegnare a me. Bene, adesso, dottore, cambiamo leggermente argomento, seppur restiamo sempre nel suo ambito, ovvero, mi piacerebbe parlare con lei di emozioni, nel senso, quello che è l'emozione secondo la bioenergetica, come si libera l'emozione, come si crea, come si evolve, lascio a lei la parola. E la parola emozione è una parola grande, perché ci fa vedere proprio questo spostamento di energia, dall'interno verso l'esterno, cioè un movimento, noi viviamo col nostro corpo, un movimento continuo, di pulsazione, di respirazione, tensione carica, scarica, rilassamento, e siamo governati da questo processo pulsante, è un processo che va verso il basso, in senso, quando noi, e noi volgarmente possiamo essere considerati come un tubo, dove c'è una funzione di carica e di scarica verso il basso, e quando noi riusciamo, l'animale uomo ha un vertebrato, e quindi deve avere questa funzione, di discesa per raggiungere il terreno, da dove poi risorge, ma il problema emotivo, il problema non è problema, ma la bellezza dell'espressione emotiva, è proprio che io dall'interno, ti tiro fuori il mio vissuto, il mio sentire, in un modo naturale, perché l'emozione è un processo che avviene naturale, di ristabilizzazione corporea, quando io trattengo un'emozione, devo tendermi, sviluppare una tensione muscolare, che inibisce l'espressione della mia emozione, che sta emergendo, ecco, e questo processo, quando si struttura già da bambini, viene somatizzata questa modalità, nei tessuti profondi, questa modalità di trattenimento, quindi di tensione, e si strutturano queste tensioni profonde, e allora queste tensioni profonde, creano quella che è Wilhelm Reich, io avevo citato come padre storico, delle terapie centrate sul corpo, in un mio vecchio libro, di alcuni decenni fa, diceva proprio che lo scioglimento, di questa tensione corporea, può creare la liberazione, dell'emozione trattenuta, e questi sono i processi catartici, che noi utilizziamo, e si realizzano in terapia, per risolvere e sciogliere, quelle che sono le tensioni profonde, le paure, le rabbie, tutti i conflitti vissuti, nella nostra storia, nel nostro vissuto, intendiamoci bene, questo tipo di tensioni, ha una sua utilità, quindi noi non dobbiamo considerarci come delle macchine, e chi è un terapeuta, o è un meccanico, che apre le emozioni, così si è a posto, no, perché l'insieme di queste difese, di queste emozioni trattenute, e di queste tensioni, strutturano quella che Raika aveva chiamato la corazza caratteriale, che ci permette di andare in guerra, e dato che noi, nel nostro mondo occidentale consumistico, non possiamo fare a meno, che confrontarci con la realtà, che è questa, non è che possiamo andare sul timid a meditare, possiamo andarci, ma poi, se la nostra realtà è questa, allora ecco, che questo tipo di corazza serve, nella vita, serve per affrontare i conflitti, il lavoro, per rimanere forti e saldi, per raggiungere gli obiettivi che ci diamo, e per avere dei risultati di vita, che ci auspichiamo, tutti possono avere per evolvere, ma, questo tipo di corazza, questa struttura, se da una parte ci difende, e quindi l'abbiamo strutturata per sopravvivere, oggi noi dobbiamo vivere, e per vivere, bisogna sentire, e per sentire, bisogna emozionarsi, se noi non abbiamo un contatto emotivo, non possiamo essere veri, noi siamo macchine, e non siamo più persone, oggi la cultura americana, ma soprattutto italiana, noi abbiamo preso molto come metodologia, e cosa succede? Fa sì che noi siamo tutti macchine, io lo vedo quando, per esempio, ci sono alcuni miei pazienti, che non so, dall'uno alle due, vanno in palestra di corso, e poi, una volta sono andato anch'io, perché, ma allora, e vedo in palestra, sono tutte macchine, tutte macchine che si muovono, assolutamente staccato, dal mondo emotivo, dal sentito, e quindi perdiamo una parte del nostro sé, quindi non voglio essere critico, ma voglio dire, fa bene muoversi, perché fa bene muoversi? Perché noi non possiamo muoverci senza respirare, e allora il movimento ci procura un aumento della respirazione, e questo è il dato positivo del momento, quindi tutti i movimenti, tutte le ginnastiche, tutte le tecniche, vanno bene, soprattutto per me, che ne faccio, dico, ma però dovrei farne di più, ecco, quindi, diciamo, che cos'è l'emozione? Ritornando alla nostra domanda, l'emozione è la possibilità di sentire, e per vivere, noi dobbiamo sentire, altrimenti se non sentiamo, sopravviviamo, ma è allora, ma per molte persone, ci vuole più coraggio, per noi, molto spesso, quando abbiamo delle problematiche, non voglio parlare di patologia, però, problematiche di forte cerebralizzazione, o scissione, sono scissioni che hanno una loro funzione, perché noi ci dividiamo per sentire di meno, come quando ci sono gli investimenti, nel nostro capitale fai un po' così, dividiamo il rischio, però questo nel corpo non è più valido, va soltanto sull'aspetto finanziario, come sicurezza, perché nel corpo, cosa succede? Più noi ci dividiamo, più noi ci parzializziamo, e quindi, non possiamo vivere a pieno, un'espressione del sentire, che può coinvolgere, testa, cuore, pelle, l'unità funzionale psicosomatica, o somatopsichica, che dir si voglia, che è quella che avevamo quando siamo nati, che eravamo tutta una vibrazione, e che noi dobbiamo mantenere questa vibrazione, questo movimento di mobilità e di motilità, i due movimenti, motilità è più interno, è più inconscio, mobilità è gestito dall'io più conscio, devono andare in coppia, principio del piacere col principio della realtà, non essere in conflitto, e allora, nel momento in cui riusciamo a integrare queste parti del nostro sé, noi sentiamo di più, sentiamo di più, e proprio vediamo la cultura post-raichiana che si riferiva a liberare i processi, si riferiva al piacere, adesso dico una parola un po' che può fare un po' sobbalzare, al piacere orgastico, diceva Reich, che cos'è? È un piacere che è totale, che si realizza con l'orgasmo estatico, diceva Reich, l'orgasmo estatico che cos'è? Possiamo soltanto riferirci a questo, rispetto al nostro vissuto, i nostri momenti, i momenti precedenti della nostra vita, qualora ci fosse stato, ma è qualche cosa che non va ricercato come modalità tecnica, è qualche cosa che va predisposto al corpo affinché possa accadere, e va lasciato accadere, in un modo inesigente, dico sempre ai miei pazienti, perché è il modo col quale accade quando è giusto che accada. La parte che si collega a quello che ho appena detto, dottore, ovvero la parte dell'autenticità, cioè comunque quello che ho capito io, di raggiungere uno sblocco per il sentire, quindi la sensazione che deve andare fuori, ma se siamo tesi e bloccati, quindi il corpo ha tutte queste tensioni, diventa difficile far uscire effettivamente il sentimento, quindi se ho ben compreso, bisogna prima sciogliere in qualche modo il corpo, eliminare queste tensioni. certamente, cioè abbiamo visto, detto poc'anzio, come queste tensioni inibiscono l'espressione delle nostre emozioni, e del nostro sentire, e strutturano delle tensioni croniche nel corpo, che ci procurano i famosi blocchi energetici, che sarebbe freni del flusso dei liquidi nel nostro corpo, e questo ci impedisce, non ci dà funzionalmente l'aspetto gestaltico, comportamentale del movimento, della sicurezza del sé, e ci può creare anche, o perlomeno può predisporre il corpo, a formare quelle ormai note, conosciute sintomatologie psicosomatiche, che hanno un'incidenza altissima in tutte le patologie, tutte le sintomatologie che conosciamo oggi, e che hanno però una possibile via risolutiva, attraverso lo sblocco, lo scioglimento delle nostre tensioni, che corrispondono alle nostre emozioni, corrispondono a tranquillizzarci con dei vissuti conflittuali, corrispondono a trovare delle libertà espressive, comunicative e soprattutto respiratorie, perché queste tecniche bioenergetiche, che partono dall'analisi bioenergetica, che come dicevamo è un'analisi psicocorporea, che mette il corpo in terapia, non è una terapia direttiva, ma è diretta, perché arriva subito al corpo, e allora questo tipo di processo fa sì che arrivando subito al corpo, noi partiamo dalla parte più profonda da convincere, che è la parte più inconscia, perché il corpo è collegato al nostro inconscio, mentre oggi noi tendiamo a risolvere tutto con la testa. Con la testa è importantissimo, siamo altamente scolarizzati tutti, mentalizzati, e se non siamo in questo livello di mentalizzazione, non possiamo vivere il nostro mondo, che ormai è un mondo altamente proprio solo, esclusivamente cognitivo, razionale, conscio, e che va sempre in carenza del corpo, e quindi del sentire, quindi tendiamo ad essere più testa che corpo. Allora è proprio per questo che noi, anche in alcune sintomatologie, le più comuni sul piano clinico, noi vediamo come è giusto che sia a risolvere quelli che sono gli aspetti sul piano cognitivo, fare le cose che dobbiamo fare, fare le cose giuste, evitarle nei altri, e poi interveniamo, interagiamo proprio sulla nostra modalità anche gestaltica, perché questo ha un'incidenza relativamente a un piano, non dico superficiale, ma più conscio, più alto, cioè il modo di pensare, influenza il nostro modo di sentire, e il modo di sentire, influenza il nostro modo di pensare, faccio un esempio, se io per esempio ho una postura così, e mi metto così, sono stanco, come pesa, eh no, non ce la farò, è pesante la vita, se io viceversa, ispirando, ho una postura così, senza nessuna allusione storica, non voglio entrare in termini estremamente dominanti, che entriamo poi nella patologia, però se ho una postura eretta, come giusto che sia, con giusto appoggio, il modo di stare, influenza il nostro modo di pensare, comincerò a pensare che, no, beh, tutto sommato posso provare, e posso provare, forse ce la farò, anzi, ce la faccio sicuramente, perché ho capito che è una cosa possibile, e mi cimento per poter raggiungere gli obiettivi, e questo è una cosa importantissima da realizzare, con tutte le tecniche, le metodologie, apprenderle, conoscerle, in modo chiaro, preciso, approfondito, e questo è il primo passaggio, io ho lavorato con l'Owe, e ogni tanto diceva, but, o altri terapeuti americani, io sopposto, e il but, ma era il but, comincia, proprio l'Owe mi diceva, but, allora, credevo di avere risolto tutto, nel modo più semplice, adesso ti ho capito, e poi mi diceva, noi siamo condizionati dai processi energetici, quali sono questi processi energetici? è semplicissimo, i processi energetici sono processi di carica e di scarica, molto terra a terra, carica, che cosa è data? Ossigeno, noi nasciamo con un atto ispiratorio, e poi abbiamo la metabolizzazione degli alimenti, cibo, ossigeno e cibo, questo è un primo elemento che struttura la carica, poi vedremo che la carica è implementata da altri fattori, che sono per esempio i fattori fantasmatici, i fattori olfattivi, i tt mentali, che enfatizzano questo processo di carica, ma essenzialmente è l'ossigeno, quindi la respirazione, e il cibo, carica. Allora la bilancia, su un piatto della bilancia, cosa fa? Tom, e quindi siamo in disequilibrio se noi carichiamo, cioè quello che avviene oggi, è che noi implementiamo sempre la carica, sei stanco, mangia, che cosa? Fai, e implementiamo questa carica, senza tener conto, che quando siamo in disequilibrio, siamo in angoscia, in conflitto, se noi non ottimizziamo questi fattori di carica attraverso un processo di riequilibrio che passa attraverso la scarica. E come ci scarichiamo? Pensate un po', quale può essere l'elemento iniziale di scarica, cioè di ristabilizzazione. È semplice ma difficile, nel senso che ognuno ha le sue modalità, se no moriremmo. Vediamo il bambino, che è il nostro grande maestro. Il bambino ha preso il suo latte nel boxino, si è fatto la sua dormita, pieno di energia, e si sveglia. Quando si sveglia, che cosa fa? Muove le articolazioni superiori, se c'è la libere, anche quelle inferiori, e si autoregola. Quello è un processo di scarica, quindi vediamo che il primo fattore di scarica è il movimento. Da adulto c'è un altro fattore significativo, che è la sessualità, quindi movimento e sessualità. Prodomomea, io che sono già un po' anta, dico, c'è anche fare le cose che a noi piacciono, bricolaggio, investire l'energia nelle cose che ci muovono in mondo emotivo, le nostre passioni, quello che ci piace. La parte artistica, la parte artistica, creativa, può avere anche una sua funzione di scarica. Diciamo funzionalmente, rigorosamente, i processi di scarica sono essenzialmente quelli detti, che sono ossigeno e cibo, movimento e sessualità. Però a questi vanno messi su misura in funzione della situazione della persona e possiamo vedere che l'animale uomo è più adattabile in natura e riesce a compensarsi in tutte le situazioni. E quando sta bene, cioè raggiunge questo equilibrio, significa che è attivato in modo autonomo i suoi processi di carica e di scarica e gli permettono questa oscillazione. Questa oscillazione, vedete, deve essere quando io ho raggiunto il fulcro piena libertà, io posso oscillare al massimo. Nel momento che ho una tensione, io sono in disequilibrio e allora devo mettere proprio questi pesetti per compensare e allora vedi che inibisco le mie potenzialità espressive, inibisco le mie potenzialità creative, diciamo lavorative, relazionali e sessuali. Io mi occupo di sessuologia clinica, la diciamo, e vedo che la sessualità non è estrapolabile come qualcosa da curare così in modo tecnico come il bacino, la pelvi, questo, questo. No! È un corpo, dicevamo, in unità. E quindi quando una cosa funziona, quando c'è integrazione, funziona tutto. E questo è il mio concetto, diciamo, di salute, di star bene. Non c'è mai un aspetto solo e soltanto. C'è l'iceberg che è soggettivo per ognuno di noi, che si esprime con un sintomo privilegiato, uno in un modo o l'altro, perché ognuno di noi, quando nasce, ha dei meccanismi difensivi diversi che formano il suo carattere. Il carattere è l'insieme di queste difese, la sua modalità. E diciamo che ogni tipologia caratteriale forma degli elementi, non voglio dire a rischio, perché andiamo sul negativo, o negativo tra virgolette, ma delle predisposizioni ottimali per sviluppare certi talenti. E dei freni per tenere un po' in sordina altri talenti che non è detto che non possa avere. potrà avere nel momento in cui lui amplifica le sue modalità espressive di ragionamento, ma anche di movimento corporeo, e quindi il carattere non si cambia, perché se io cambio il carattere, voglio, se è l'insieme delle mie difese, però posso realizzare delle modalità più ampie, e quindi smussare quegli spigoli che interferiscono la mia libertà espressiva e che mi irrigidiscono e impoveriscono le mie emozioni. E quindi, riuscendo a sbloccare tutte queste cose, riuscendo a ritornare all'autenticità, si ritorna un po' come quando eravamo bambini, no? Certo. Quindi c'è ancora più equilibrio in questo processo di carica e scarica. Certo, il bambino si autoregola in modo naturale. Quando ha un conflitto, piange, quando è stanco di stare in questa posizione, si muove. E questo movimento, e proprio ieri sera l'ora cena con una persona che dice guarda com'è un po' formale, e questa persona aveva questo bimbetto, oh, complimenti, non bisogna mai troppo esagerare, perché i bambini sono così... Ecco, e questo bambino che stava bene, poi guardando, è molto... generalmente ormai nelle cene, nelle situazioni, i bambini stanno da parte loro, un tempo era natale, questo era venuto un attimino lì, eccetera, e era piccolino, non poteva ancora essere la loro autonomia di andare fuori, e cosa succede? Guardiamo sotto la tovaglia, aveva le gambette girate di là, che facevano così, però formalmente aveva fatto una bella figura, in questo senso. Perché? Perché i bambini si autoregolano, e quindi riescono a piangere, a ridere, eccetera, l'adulto purtroppo sappiamo no, però, se da una parte, nell'ambito lavorativo, di quelle 6, 8, 10, 12 ore, noi attiviamo questo meccanismo inibente, va bene, perché la funzionalità energetica deve avere la possibilità, sì, di avere l'elemento, come dicevamo, per l'equilibrio della scarica aperta, libera, e trovare la modalità di esprimere il mondo emotivo, le nostre emozioni, le nostre scariche, le nostre rabbie, ma va anche bene che abbia una possibilità di contenimento energetico, e quindi di trattenere, per strutturare la possibilità di relazionarsi in un modo socializzante, socializzato con gli altri, perché non si può, come il bambino, ogni cosa buah, buah, però c'è un fatto da dire, se io lavoro in un lavoro che mi piace, che mi gratifica, ho la possibilità di formare questo stress positivo, chiamiamolo, e quindi di autoregolarmi attraverso qualcosa che mi piace, eccetera, e quindi vado in sinergia col mio modo di esprimersi con il lavoro e non sento neanche la stanchezza, anche se poi di fatto ci può essere in questo senso, qui, se vi vivo un lavoro conflittuale, come dire, butto giù qualcosa che non mi appartiene, noi tutti abbiamo nella vita avuto o abbiamo delle situazioni che ci costringono a fare anche cose che non partono da noi, ma dobbiamo essere capaci di fare anche questo, però è importante che noi possiamo nei momenti in cui siamo più liberi poter esprimere ciò che abbiamo trattenuto con delle modalità sostitutive o espressive in ambienti adeguati che ci permettono il riequilibrio e quindi l'espressione dei nostri bisogni, di ciò che noi sentiamo, perché soltanto dopo aver espresso i nostri bisogni e le nostre esigenze noi potremo comprendere più appieno i bisogni degli altri. Prima si è felici noi e quando si è felici noi, pieni noi, centrati noi, allora poi possiamo migliorare la vita anche degli altri. Certo, questo qui è un concetto basilare, perché non bisogna trovare nell'altro la sicurezza in noi, perché noi diventiamo dipendenti dall'altro, anche se l'altro può darci degli insegnamenti e possiamo riferirci a un comportamento di esempio, di modalità, però è importante che ci sia una fusione, noi vediamo in terapia, senza una confusione, quindi fondersi senza confondersi. Benissimo, ecco, una cosa per cui è fondamentale, abbiamo visto la bioenergetica nel percorso di ricerca della didattica, anche per migliorare la comunicazione, noi ci occupiamo appunto di comunicazione particolare della comunicazione carismatica e dopo le chiederò anche che cos'è secondo lei il carisma, tra poco glielo chiederò quindi si prepari. Abbiamo visto che proprio la bioenergetica con il fatto che bisogna sbloccarsi per eliminare queste tensioni, elimina proprio quegli schemi anche neuromuscolari che imbrigliavano la comunicazione, l'espressività, la capacità di far uscire le emozioni e questo facilita anche l'apprendimento di nuovi schemi motori più funzionali all'ottenimento di una comunicazione più emozionale, più produttiva, più autentica, più simpatica, empatica oppure anche molto più assertiva oppure più passionale. Ah beh, sì, dipende la situazione, noi viviamo queste alternanze nella relazione, io ieri stavo facendo un corso e c'era una ragazza che aveva ancora, una ragazza che è anta, mi diceva sul maschile, mi parlava di eh sì, i miei tempi, adesso i maschi, mi diceva, c'era Nindelon, tutte le sue, non lo conoscevano perché sua madre lo conosceva, ma era un attore molto passione, che aveva queste modificazioni espressive, emotive, ma anche gestalti che soprattutto avevano un imprinting nel viso, per esempio se noi andiamo a vedere delle foto sue, perché è ancora vivo credo, senz'altro lo sarà, mi auguro, ma aveva proprio queste rientranze per esporgenze nel viso, quindi avevano degli acceleratori dei freni e quindi questo è passionalità, questo qui lo definisco è l'elemento passionale, degli elementi contradditori, potenti, nelle quali c'è una grande spinta propulsiva nell'avanzare e anche l'inibizione all'atto nel dover procedere in quella direzione e questo è un aspetto motivazionale e come dicevamo prima il silenzio per la parola che ne funziona come cassa di risonanza della parola al silenzio e in questo caso il trattenimento, l'inibizione, il freno ha una sua funzione estremamente importante oltre che l'azione libera indiscriminata senza confini e questo lo abbiamo visto come esempio anche nel S.P.O. 68 dove tutti è quindi c'è sempre tesi in un modo in cui estremamente contenitivo antitesi estremamente liberatorio fin troppo senza confine sintesi la via di mezzo il centro l'unità yin e yang in un equilibrio dinamico che è la vita è la saggezza è la gioia di vivere e quando c'è gioia e piacere la naturalezza c'è movimento naturale del corpo compreso il movimento di quello che mi stava chiedendo prima il movimento delle emozioni quindi il contatto col mondo emotivo detto questo c'è da dire anche che io mi occupo di terapie psicocorporee e ho messo a punto alcuni lavori di Alexander Lowen messo a punto è una parola un po' grossa vorrei dire che ho lavorato sulle varie tipologie definite da Lowen perché non esiste un carattere puro o uno che ha lo stesso carattere esiste delle tendenze comportamentali di un certo tipo che si possono raggruppare e Lowen ha fatto questa grande innovazione di raggruppare delle tipologie con esperienze emotive più o meno simili per vedere che hanno una struttura corporea più o meno simili con atteggiamenti più o meno simili con delle predisposizioni diciamo talentuose in certo livello verso certe attività verso certi obiettivi e l'altra faccia della medaglia delle possibili diciamo cadute in sintomatologie psicosomatiche più frequenti cioè ognuno e poi ogni tipologia ha sempre l'aspetto di un certo tipo che l'autora distingue e che poi c'è l'altra faccia della medaglia che è l'aspetto invece che è quello che frena l'altra espressione positiva però questo equilibrio che si realizza nel corpo è un equilibrio che appartiene può appartenere a tutte le tipologie caratteriali e se ogni persona tende nella vita a poter o ha la fortuna o la possibilità di poter realizzare le cose che sente e le cose che pensa che sente con l'atto compiuto realizzativo questo gli dà la sensazione del sé gli dà l'energia gli dà la carica e il maggiore motore che l'animale uomo ha in questo per andare avanti serenamente è la possibilità che ha che purtroppo non riguarda a volte tutti in modo pieno è quella di essere riconosciuto il primo diritto è il diritto di esistere il diritto di aver bisogno è il diritto di essere amato e riconosciuto e allora dove ci sono delle infanze con grossa turbolenza con grossa conflittualità o situazioni alle volte prenatali ecco che si realizzano degli elementi predisponenti per andare in certe direzioni che vanno verso il freddo e non verso il caldo e non è che bisogna andare per forza verso il caldo anche il freddo è la sua funzione ma voglio dire il caldo è visto come l'amore il contatto il riconoscimento e il freddo è visto come l'aspetto difensivo retrattivo ci vuole l'uno e ci vuole l'altro ecco quindi che l'aspetto bioenergetico fa sì che il ghiaccio si possa sciogliere e riscaldare e il troppo fuoco il troppo amore trova la sua dimensione in un'alternanza di avvicinamenti allontanamenti di concavi e convessi di azione di come dire di carica e di scarica di yin e yang che ci siamo governati e bisogna che noi possiamo vivere qualche momento dove siamo condotti da questo processo naturale che è il processo della respirazione che diventa profonda e libera quando noi ci rilassiamo in situazioni di rilassamento profondo noi siamo in una situazione ottimale per poter respirare naturalmente senza dover far fatica e allora ecco che io ho messo a punto per esempio delle tecniche che consistono nell'interruzione della curva dello stress cosa vuol dire? vuol dire che noi se lavoriamo magari siamo in una situazione di stress che si cumula si somatizza e sale i grafici della borsa vanno bene che abbiano questa direzione ma noi dobbiamo fare questo e allora ecco che a volte basta poco basta creare un'interruzione di questa curva dello stress cioè fermarci fare alcuni esercizi bioenergetici io dico perché sono quelli che ho messo a punto che coinvolgono il movimento corporeo la sua mobilità emotività e soprattutto nella respirazione e nel movimento e si vede come questa curva tenda a fermarsi e a scendere nel rilassamento per poi riprendere lavoro e riprendere e innalzarsi ma nel momento in cui si inalza non si inalza più da qui che continua su ma si inalza da un gradino sotto e quindi appena si inalza dei livelli medioalti alti che andiamo verso il rosso noi dobbiamo fare che cosa abbandonarci rilassarci muoverci e commuoverci e ne dico una io ho scritto un libro nel secolo scorso era ieri secolo scorso che si chiama della Mondadori mi ho scritto Tanzio l'energia dentro di noi poi ho fatto negli Oscar Mondadori hanno fatto molte edizioni e una giornalista che non dico il nome non posso dirlo è la verità sul Corriere della Sera ha fatto un articolo di tre due righe tre righe dico caspita vabbè era la Lina Sottis una giornalista di Corriere della Sera che ormai è venuta ha visto il libro tutto quanto proprio tre righe così tutti quando fanno una relazione tre righe no ma erano poche parole che io le dico che era l'essenza la quintessenza della via energetica e ve li voglio ve la voglio ripetere perché respirare quindi se ci facciamo caso attivare tutti i processi di carica muoverci attivare i processi di scarica e questo è una funzione che anche gli esercizi fisici molte tecniche realizzano e siamo già a un buon livello che sarebbe quel 50% auspicabile che tutti possiamo realizzare ma rimangono due dimensioni la via energetica come i miei esercizi le mie tecniche il mio massaggio via energetico è tridimensionale c'è anche lo spessore e qual è lo spessore? respirare muoverci e commuoverci esprimere le emozioni entrare nel mondo emotivo è bellissimo e mi viene mi è venuta adesso questa piccola illuminazione a questo parallelo perché anche nella comunicazione è esattamente questo quello che succede ovvero c'è come base per comunicare bene ci deve essere una buona respirazione quindi processo di carica se ho ben capito respiro e poi comunico parlo con gli altri e quindi mi muovo perché la comunicazione è movimento e quindi c'è il processo di scarica compreso nella comunicazione e in più se c'è un lavoro di riuscire a comunicare le emozioni quindi il sentimento e quindi c'è una comunicazione emozionale allora la comunicazione diventa tridimensionale potenzialmente anche terapeutico comunicare ti fa star bene c'è la piacevolezza del comunicare del parlare con gli altri dello star bene nel parlare guardavo se avevo questo libro tra i libri da fare vedere la copertina perché è una copertina assolutamente significativa poi se lo trovo e lo faccio vedere perché proprio la leggerezza dell'essere noi siamo soggetti alla forza di gravità e prima o poi insomma siamo degli umani e quindi quando noi riusciamo a realizzare questa tridimensionalità del sentire quel collegamento del mondo emotivo non è che ci innalziamo andiamo verso il cielo e quindi perdiamo il grounding ma riusciamo a realizzare un buon collegamento anche ascendendo col cielo con la fantasia con l'aspetto fantasmatico creativo immaginativo senza perdere il contatto del sé con la terra tra la terra e il cielo c'è il nostro corpo e questo è il più bel modo di poter comunicare con tutte le cellule che pur se ne sono vive perché è essere vivi per arrivare a quel concetto orgastico di cui parlavo la festa del corpo che è un concetto orgastico in senso sessuale ma noi dobbiamo vederlo anche in senso di poter raggiungere una soddisfazione un atto compiuto di quelli che sono i nostri aspettative le nostre diciamo scelte il nostro lavoro anche sul piano della quotidianità e del lavoro e dello svago in tutti i sensi ci può essere una partecipazione globale del nostro corpo in certi momenti dove noi realizziamo quello che disegneriamo i nostri sogni a realizzare in un atto compiuto che è un po' la messa a terra vorrei concludere un concetto che abbiamo toccato precedentemente che è quello di questo 50% del mondo cognitivo che è indispensabile imprescindibile per proseguire per questa unità sempre più globalizzante teniamo presente che noi ci scindiamo ci dividiamo per sopravvivere e quindi non è un meccanismo diciamo così distonico e criticabile perché è un modo che l'animale uomo ha e mi ripeto per poter sopravvivere in caso di difficoltà o in caso di vissuti conflittuali però andare verso l'unione quanto più possibile di questa struttura di questa unità oggi la nostra sintomatologia maggiore che nella mia casistica clinica io ho e molto spesso io ogni sei mesi li sfoltisco ma e poi li tengo queste casistiche perché mi fanno vedere come sta cambiando un po' la situazione oggi noi andiamo proprio verso quella che è stata definita due anni fa con un termine inglese o americano di questo diciamo manager della Lloyds Bank londinese il termine Izzo inability to switch off l'impossibilità di staccare la spina cioè l'iperconnessione questa iperconnessione produce delle sintomatologie e delle patologie che sono proprio l'attaccamento compulsivo a certe modalità che sono modalità che fino a un certo punto hanno una loro funzionalità produttività e lasciano il corpo arrivati ad una certa altezza a boomerang ci ritornano indietro e poi ci fanno fermare questa velocità di ascesa perché ci sviluppano delle sintomatologie psicosomatiche che ci dicono stop quindi va bene che noi possiamo adottare tutto ciò che possiamo fare sul piano cognitivo razionale conscio tecnico pratico per raggiungere questi obiettivi e questo è un primo passo doveroso imprescindibile ma detto questo dobbiamo tenere presente quello che dicevamo prima che siamo condizionati ai fattori energetici e quindi che dobbiamo per riuscire a arrivare a questa integrazione non solo convincere la mente ma convincere anche il corpo e il corpo non lo convinciamo con il ragionamento ma solo con l'azione il corpo lo convinciamo con l'esperienza il corpo fa un'esperienza ignota e fin quanto non diventa nota quando vede che non muore allora si convince ed ecco qui i processi della magia o dei miracoli o della guarigione o delle situazioni perché non basta essere fermamente io vedo certi miei pazienti che mi dicono ho fatto tutto tot milligrammi di questo sono andato dall'omotossicologo mi ha dato questo ho fatto tutto alla lettera e non è successo sono ritornato ma anziché 005 era 009 o se no può fare 1 00 e questa va a casa ricompone i suoi boccettini e cambia quantità e non succede niente perché? perché ci sono molte situazioni dove va convinto il corpo e oggi questo è un po' il punto dicevo che io analizzando le mie schede le mie cartelle cliniche ho visto con i miei pazienti dove finché noi non convinciamo il corpo l'unità non si realizza e il corpo lo convinciamo proprio con l'esperienza col lavoro sul corpo e con questo aspetto qua che il lavoro sul corpo bioenergetico non necessariamente è così direttivo ma è molto diretto e quindi a tempi soggettivi abbiamo questa possibilità di intraprendere anche un percorso per noi e su di noi attraverso il processo di elaborazione che non è solo intrapsichica anzi è un processo di elaborazione psico-corporea dove privilegiamo il corpo per andare dal corpo alla mente che è un po' l'inverso dalla mente al corpo ma che deve esserci in una continuità e in unità funzionale sempre il concetto di yin e yang che si ripete e questo è possibile farlo anche attraverso dei corsi di via energetica dei lavori proprio di via energetica certo il lavoro sul corpo è un lavoro che permette alla persona di oltre che di condividere sul piano verbale il proprio vissuto il proprio sentire la propria situazione permette attraverso un'attenzione selettiva molto particolareggiata ma di primo diciamo impulso cioè nel momento in cui noi vediamo una persona abbiamo già questa sensazione della persona è una sensazione che deriva dalla nostro sentire non tanto dalla nostra mente ma quanto io sento vedendo questa persona ecco e questo può avvenire solo se io sono integrato perché io sono solo sulla testa io ho soltanto i dati razionali e quindi i dati giusto o sbagliato invece non ce n'è giusto né sbagliato in questo processo e non ce n'è anche giudizio perché non si è lì per giudicare si è lì per comprendere questo va il grande passaggio la comprensione dei processi e vediamo che la comprensione ci porta a vedere che certi vissuti non possono essere giudicati o giudicabili perché in questo senso qui ognuno ha dei movimenti adesso io e lei siamo qui vivi il mio concetto è questo vuol dire che io Francesco e lei Alberto non abbiamo fatto nulla di sbagliato da quando siamo nati fino ad oggi e può dire come mia madre mi diceva no per sopravvivere perché siamo governati dai processi energetici dal nostro inconscio dal nostro second brain dal nostra pancia nel sistema vegetativo dalla motilità da quest'area la più profonda del nostro sé che ci ha permesso di muoverci in quelle modalità che oggi siamo qui a parlare piacevolmente io e lei non sappiamo cosa potrebbe essere successo se avessimo fatto diversamente però questo per sopravvivere noi oggi possiamo dire ma io voglio vivere e questo è quello che dicono i miei pazienti quando vengono da me voglio vivere essendo in contatto o diminuendo quegli elementi interferenti che non permettono un massimo espressione del mio senso allora ecco che per vivere noi entriamo nello scioglimento delle tensioni analizzando tutti quegli elementi interferenti e diciamo mettendo in atto dei processi che sono soggettivi ad ogni metodologia di quelli che possono essere gli elementi facilitanti o predisponenti quindi molte tecniche hanno questa loro grossa importante funzione ed efficacia produttiva nel poter evidenziare gli elementi predisponenti affinché alcuni processi possano accadere non debbano accadere possano accadere allora quando la persona è strutturata nel modo adeguato tranquilla col proprio sé e a piacere che questi possano accadere se c'è questo movimento energetico anche relazionale si è possibilità che questo accada e si possa realizzare proprio attivando questi processi predisponenti però sottolineo questo aspetto a volte i processi predisponenti in certe sintomatologie in certe situazioni che sono peraltro abbastanza limitate non accadono perché oltre a avere evidenziato i processi predisponenti ci possono essere degli elementi interferenti che ne impediscono la realizzazione e allora bisogna entrare attraverso l'elaborazione analitica di questi aspetti interferenti che possono essere delle paure delle rabbie risolte che fanno da diaframma al piacere e qua mi apre un altro piccolo aspetto piccolo e grande che è il piacere la bioenergetica che è una cosa che mi affascina tantissimo in realtà del piacere se ne discute se ne è discusso tanto ci sono tanti anche psicologi psicoterapeuti che parlano di piacere ma che cos'è il piacere per la bioenergetica? Bohan ha scritto un bellissimo pleasure quel libro il piacere qualcuno dice il piacere è l'assenza del dolore la cessazione del dolore ah che piacere il piacere ha una funzione chimica è un processo chimico di vasodilatazione a livello periferico che è l'inverso della vasocostrizione che è il dolore il freddo la paura quindi perché si realizzi questo flusso dei liquidi del sangue alla periferia occorre che il corpo possa essere sufficientemente liberato da quegli elementi di trattenimento che sono la rabbia la paura il conflitto eccetera io lo vedo in sessuologia clinica nei miei pazienti dove quando c'è qualcuno che mi dice eh ma questo dovrebbe funzionare così non ha funzionato eh allora io analizzo per prima i processi del qui e d'ora no? famoso qui e d'ora importantissimo da col quale entrare in una relazione analitica anche del qui e d'ora eh perché il qui e d'ora eh va anteposto a tutti i processi analitici intrapsichici profondi perché molto spesso già nell'ambito del qui e d'ora noi riusciamo a rimuovere e quindi a modificare certe situazioni e da sola la situazione si mette a posto senza bisogno di anni o decenni di analisi perché io sono per le cose io dico che un'analisi deve avere sei mesi breve due anni media cinque anni lunga più di cinque anni l'analista deve anche analizzare ancora un po' se stesso purtroppo ai medico questo ma io ho dei pazienti che sono più di cinque anni perché ci sono certi casi dove effettivamente la situazione non è così semplice ma diciamo questo che questo momento ho perso il filo del punto che stavamo toccando ecco sul piacere mi ero associato al dolore di questi casi e proprio il dolore di questi casi mi ha interferito nel ricordo del piacere vedi come perché il dolore il conflitto la rabbia è un diaframma che non ci permette allora stavo parlando al mio paziente che a un certo punto lei dice ma con tua moglie come va? ah sono così arrabbiato se sei arrabbiato se la situazione non funziona è tutta colpa sua no la colpa non vogliamo trovarla ma dobbiamo vedere che la rabbia è una diga che separa dalla possibilità di trovare un piacere vero nel libro comunicazione carismatica ho scritto che appunto la rabbia le emozioni negative la rabbia distrugge la creatività il negativo sì visto sotto certi aspetti per comprendereci senz'altro il negativo se vediamo il piacere positivo senz'altro questo però diciamo che il negativo in senso assoluto non esiste mai non esiste mai perché ogni cosa può avere un'efficacia di rimbalzo che può darci il senso e sì questo libro che io ho diciamo intravisto il titolo alcuni cenni che mi ha fatto vedere che mi auguro di poterlo leggere quanto prima per avere questo spunto di entusiasmo e soprattutto di approfondimento di queste tematiche che sono tematiche che mi appassionano e che peraltro anch'io tratto e che amo come materia in sé e che vanno portati avanti col giusto concetto e con la giusta modalità perché sono aspetti che non sono così semplici da trattare oggi purtroppo tutti trattano tutto e questo fa sì che tutto è possibile per tutti subito e quindi copia e incolla e cosa succede che finiamo per muoverci come il consumismo o la richiesta domanda offerta ci fa muovere in funzione centrati fuori dal sé piuttosto che centrati nel nostro sé e questo è un grosso rischio quindi ecco che portare avanti questi discorsi e queste tematiche è importante che il grande pubblico possa vedere le persone il conoscerle non tanto l'altezza e la larghezza ma anche diciamo lo spessore lo spessore perché la persona che porta avanti questo tipo di impostazione anche sul piano della relazione con l'altro come impostazione di aiuto di sostegno un relazionale amichevole e professionale deve poter avere perlomeno anche se ci sono delle alternanze questa tridimensionalità corporea e quindi questo contatto con il mondo e questo è importante e noi ci troviamo a vedere molte proposte molte situazioni dove purtroppo questo contatto emotivo viene la persona ne è distratta magari per giustificati motivi incombenti ma non è ammissibile una distrazione profonda sulla tenuta in considerazione del proprio sé nostro per primo e dell'altra persona e quindi prima di tutto essere in contatti con noi stessi a livello profondo per poter trovare un contatto con l'altro con una comunicazione che sia razionalmente senz'altro valida con il buon senso ma anche supportata da una visione oltre che tridimensionale addirittura globale che comprenda proprio come nel contatto si dice un contatto che sia sì chiaro preciso e diretto laddove ci vuole e questo sì ma questo va bene solo se io sono in grado di portare il mio cuore nelle mie mani quando ti abbraccio allora io posso trovare anche poi una situazione che possa essere anche più tonica come la musica che ha gli aspetti di un certo tipo e gli aspetti di un altro tipo è la formazione del sé che noi siamo davanti abbiamo sentimenti teneri amore e qui attraverso quest'area non possiamo abbracciare e dietro abbiamo i sentimenti aggressivi e allora va bene che io possa dire sì pieni ma va anche bene che io possa dire no via io per primo io per i miei bisogni io per il mio piacere questo è il mio mantra bene dottore allora veniamo a una delle ultime domande siamo quasi alla fine di questa splendida intervista volevo addentrarmi in quella parola magica abbastanza conosciuta e sconosciuta allo stesso tempo perché ha innumerevoli significati no una parola abbastanza confusa quindi volevo fare un po' di chiarezza con lei su questo ovvero su che cos'è il carisma noi pensiamo che me lo sono scritto qui così da non sbagliare il vero carisma è la capacità di catalizzare l'attenzione su di sé quindi attrarre l'altro generando emozioni meglio se positive ispirando e entusiasmando mentre si parla e ecco è d'accordo c'è qualcosa in più c'è qualcosa in meno no senz'altro questa è la definizione di una tipologia carismatica che il carisma noi lo sentiamo anche se la persona non parla noi vediamo the wise man la persona saggia di una saggezza non ostentata di una tranquillità emotiva posturale comportamentale e anche nell'espressione verbale che non ha impazienza e che non ha troppa aggressività però ha energia energia un'energia pulita sana che potremmo dire sprizza da tutti i pori no e quest'energia perché sprizza da tutti i pori perché va dal centro verso la periferia come il piacere la gioia e uno stato di questo tipo si espande si espande con le persone che sono attorno è un campo energetico un campo magnetico sono onde elettromagnetiche se vogliamo vederlo in certi termini un po' strapolando un po' la situazione perché perché un corpo sano vibrante è lo vi diceva la salute vibrante ha scritto un libro The Way o The Vibra Health la via della salute vibrante è qualcosa che nasce dall'interno libero come la libertà prorompente di un'energia di un bambino e si esprime dove va va in un modo sano gioioso diretto tentiamo presenti una cosa che questo è l'elemento predisponente poi l'aspetto carismatico come tutti gli aspetti gli stati energetici e le impostazioni bisogna vedere come si imposta e che direzione filosofica spirituale consumistica si indirizza alla persona quindi noi vediamo che il carisma può appartenere a persone di vari stili ecco quindi è chiaro che il carisma è un trascinatore è una persona che verso la quale chi è più dipendente tende a identificarsi e lo vede come una persona come padre come punto di riferimento e quindi io facendo dei lavori per delle aziende dovevo per esempio individuare degli elementi per assumere la posizione del capo cioè il capo dell'azienda e mi si sottoponevano alcune persone tutte validissime sul piano della formazione dell'esperienza però in quella posizione occorre avere anche carisma il capo deve avere carisma senza essere perché deve avere carisma perché il carisma di una persona si esprime in un modo che espande la conoscenza con una certa non vorrei usare la parola rigidità perché la rigidità spaventa il capo è bacchettone eccetera però attenzione la sicurezza bravo una sicurezza e una giustizia perché vedi la differenza quando ci sono i quadri per un'azienda che possa funzionare non c'è uno giusto uno sbagliato ognuno ha una sua funzione importantissima nell'azienda e produttiva allora il capo si preferisce una persona che sia diretta cioè diretta cosa vuol dire che non manipoli cioè la manipolazione è un'azione sotterranea non alla luce del sole il carisma lo andiamo a identificare con persone che possibilmente possono avere dei talenti che possono fare delle manovre attenzione bene a questa distinzione tra manovrare e manipolare allora il carisma in mano una persona che manovra è un grande capo perché perché la manovra è alla luce del sole non ci sono cose che è diretto è chiaro la manipolazione è sotterranea allora un'azienda con un capo che manovra ha dei tempi medio-lunghi un'azienda con un capo che manipola ha degli esploit velocissimi alti ma poi ha una caduta repentina e non dura più deve cambiare azienda posto paese o cambiare anche vedere gli errori quindi diciamo questo sono andato che colui che manovra non voglio metterlo in una situazione di non giusto cioè colui che manipola mi correggo colui che manipola non è che sia sbagliato tutti i costi perché vedi nell'azienda ci sono delle necessità di sistemare certe situazioni c'è il chi si occupa di conteggi chi si occupa di gestione e colui che ha delle possibilità un po' manipolativo seduttiva con il giusto brio e arrivati ad un livello di tolleranza non andare oltre la tolleranza e questo è il pregio di certe modalità che esistono nell'addestramento del personale delle funzioni di vendita di marketing bisogna vedere di potenziare di poter vedere i lati positivi di questa modalità espressiva di queste bollicine che ci vuole un po' di brio ogni tanto però deve rimanere entro un certo range perché il pericolo di questa situazione è che stravarichino perché noi tendiamo quando andiamo su siamo trascinati dall'onda e diciamo in barca vera si dice scufia e finiamo per andare a finire allora ci vuole questa spinta che rimanga contenuta e il contenimento di questa spinta ci vuole una persona che manovri quindi ci vuole un capo e il braccio destro di un direttore generale se è una persona che mette a posto un po' le cose va bene e lui riesce a fare a piegarsi come uno spaghetto cotto e mettere a posto certe situazioni quindi vediamo che è una persona anche lei indispensabile però è una persona che dobbiamo metterla in un collocarla in un certo modo nel marketing nelle forze di vendita con la giustituzione e con i giusti riferimenti di contenimento proprio perché è portata una persona così quando noi tutti ci entusiasmiamo a muoverci verso un processo di espansione e le espansioni di espansione sono molto pericolosi perché se l'espansione ha un obiettivo preciso lecito e naturale va bene se il processo di espansione viene lasciato in modo indiscriminato diventa come un fuoco d'artificio che non ha una bellezza così però non ha una direzione è l'azienda o chi si occupa di personale deve avere dei target delle obiezioni dei programmi a medio a lungo termine affinché possa fare i suoi progetti di investimento e i suoi processi poi di rimunerazione in modo diciamo sensato e invece il carisma che da quel che ho capito è anche abbastanza collegato insomma con dei valori quindi ho intercettato un po' la verità l'onestà collegati con la persona carismatica che deve vivere secondo queste cose il carisma nell'ambito familiare come si comporta perché l'abbiamo analizzato nella parte business nell'ambiente familiare il carisma è quella modalità di poter essere autorevoli di poter avere un certo spessore e quindi avere dei confini col no e col sì in modo chiaro deciso e preciso e diretto però avere anche poi quello che precedentemente dicevamo che è quella intelligenza emotiva di trovare una relazione umana nella condivisione nella relazione che possa comprendere oltre l'aspetto strutturato che lo vedo sempre come un aspetto molto tonico quello del carisma la persona che è autosufficiente e quindi si autoregola e ha questa possibilità energetica con energia generalmente medio alta ecco e nella famiglia diciamo che non deve arroccarsi a modalità di potere o di situazioni ma deve avere soprattutto elementi di comprensione eliminando elementi di preconcetto e giudizio e ampliando i momenti di comprensione pur mantenendo un tono di energia e di gioia nell'amore da condividere quindi un padre nel suo ruolo di padre è una situazione che è molto soggettiva perché ognuno di noi ha delle situazioni personali irripetibili ed uniche che poi si addiziona nell'aspetto diatico nella coppia con altre situazioni irripetibili e uniche e formano una famiglia con i figli che anche lì cambiano ad ogni atto respiratorio cosa vuol dire? vuol dire che noi ad ogni atto respiratorio e che ogni atto respiratorio è unico e ripetibile nella nostra vita proviamo a farne uno adesso di questo momento bene quest'onda quest'atto qui respiratorio non avverrà mai più nella nostra vita ma ne arriveranno altri non diamo un giudizio se meglio o peggio ma ecco in famiglia bisogna essere in grado di condividere dei momenti dove noi sentiamo insieme con una modalità aperta e inesigente e questa modalità è la modalità dell'amore che poi diventa affetto ed è il lavoro col cuore quindi il cuore deve sempre essere pulsante e appartenere prima alla persona individuale poi alla diade nella relazione di coppia e poi estendersi nella relazione familiare non solo ai figli ma alle relazioni che si possono creare in questo ambito energetico questo nucleo energetico quindi ricapitolando se ho capito bene la persona carismatica in ambito lavorativo e anche familiare forse soprattutto familiare deve avere delle caratteristiche che sono la capacità di generare emozioni e in particolare la capacità di generarne diverse cioè ci deve essere la parte allegra e simpatica di gioia la parte empatica di calma di tranquillità di fiducia di tenerezza quindi la parte più debole femminile e la parte poi anche più sicura più ottorevole cioè poi andare anche in quelle parti passionali di entusiasmo di gioco di bambino certo 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 noi possiamo metterci in contatto con l'energia nascente un po' uno stato nascente che è quello dei bambini piccoli trovare queste relazioni e trovare emozione in questa relazione se noi riusciamo dico una cosa nota è ovvia entrare nel bambino che è dentro di noi e soltanto potendo esprimere naturalmente avendo la possibilità di avere lo spazio di esprimere il bambino che è dentro di noi noi potremo strutturare di conseguenza una l'adulto genitalmente maturo che può evolvere dal bambino con una funzionalità produttiva del buon padre di famiglia tra virgolette voglio dire nel senso di una maturità una genitalità matura che comprende il bambino e l'adulto questa relazione è una relazione da non perdere mai 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 e solo con questa relazione noi possiamo evolvere in modo diciamo dove l'umano diventa umano a differenza della macchina proprio perché diventa in contatto con il motivo con l'emozione capita ogni tanto di arrabbiarsi magari i genitori con i figli il capo con i dipendenti che insomma può capitare che non sempre vengono rispettate le cose che si hanno in mente quindi di conseguenza alcune cose non ci vanno bene ci arrabbiamo la rabbia può essere giusta ma forse non troppo non so e come fare poi per come comportarsi in rapporto alla rabbia tanto che parliamo di emozioni e anche in ambito carismatico quindi come gestirla come collaborare come convivere con tutta tutta la sfera emozionale fatta di emozioni più gioiose e emozioni invece più diverse più buie certo la rabbia è un sentimento caldo e della rabbia non è da aver paura della rabbia non bisogna aver paura dell'arrabbiarsi vedo rosso nel senso che quando il sangue va alla testa uno si arrabbia perché la rabbia è un sentimento caldo allora con un sentimento caldo noi col caldo possiamo balearla e maneggiarla non voglio adesso entrare o estrapolare dalla sua domanda adesso ci ritorno ma mi viene in mente la differenza tra rabbia e odio allora la rabbia è un sentimento caldo se noi mettiamo in freezer la rabbia cosa succede? la rabbia se la mettiamo in freezer diventa odio cioè raggela diventa ghiaccio quella è una situazione temibile perché è più difficile scioglierla gradualmente perché se vogliamo sciogliere un ghiaccio a volte c'è pericolo che si spagna e qui entriamo in situazione di patologia ma la rabbia è un sentimento caldo come tale va gestita espressa lavorata la rabbia io lo vedo così che parte dalla base delle nostre docce paravertebrali quando spingiamo le surrenali la spinta delle surrenali dove si metteva ai miei tempi che non erano ancora tempi digitali la bolla dell'automobilina o del soldatino che camminava e la metterano generalmente dietro e lì poi camminava perché dove nasce la componente aggressiva carica alla fine delle docce paravertebrale passa attraverso la zona scaporomerale e va nell'atto compiuto come modalità finita non in questo senso perché attenzione bisogna fare molta attenzione tra la distinzione tra rabbia e furia la furia è un movimento in consulto che vada per tutto e non risolve nulla la rabbia deve andare verso sono arrabbiato per questo sono arrabbiato per questo è un sentimento caldo importante positivo che deve avere la possibilità di essere espresso esprimere la rabbia è un modo per trovare quel riequilibrio naturale dell'uomo però attenzione non è che io devo prendere un bastone e picchiare no questo è il punto la rabbia va gestita in modo adulto e va portata come espressione in un modo produttivo quindi sentimenti rabbiosi fanno parte di un certo tipo di carattere piuttosto che un altro tipo però laddove emerga questa cosa qui vediamo per esempio che nell'ambito bienergetico è diventata ormai nota sono diventate note le tecniche per poter esprimere la rabbia che non è quella di picchiare contro la moglie o il marito ma picchiare contro un cuscino per scaricare quell'elemento di tensione che faceva sì che era impossibile poterla gestire quindi questo ci ristabilizza un po' ci sono degli esercizi specialistici nell'ambito delle tecniche bienergetiche che io ho messo a punto lavori post-laweniani e che hanno una grande efficacia di ristabilizzare un'efficacia terapeutica e anche per entrare poi in a profondità analitiche introspettive intrapsichiche che permettono al soggetto di poter capire che ciò che ti fa arrabbiare oggi è qualche cosa che probabilmente ti aveva fatto arrabbiare anche ieri quindi a forza di sommarsi queste porzioni di rabbia a un certo punto tutti noi sbottiamo e il problema è che sbottiamo nel modo sbagliato e nel momento sbagliato e allora ecco che occorre gestire la rabbia in modo che noi possiamo trovare dei momenti nei quali noi abbassiamo questa potenzialità della rabbia come abbiamo fatto prima l'esempio di interrompere la curva dello stress io posso interrompere l'accumularsi e la sedimentazione di processi di rabbiosità e risolta e trovare un giusto equilibrio nella possibilità espressiva ma diciamo che un po' di rabbiosità nella comunicazione o nella relazione ci sta perché la rabbia è il colore rosso e però se noi facciamo tutto e sempre rosso vedo rosso e non va bene ma il rosso è un colore importante è da unire con tutti gli altri colori benissimo dottore grazie mille allora per grazie per voi siete stati molto diciamo tranquilli nel potere ascoltarmi e anche pazienti e questa è una bella dote che qualcuno ha per natura e però vedo che chi per natura dovesse difettare ci sono delle tecniche delle possibilità per poterla raggiungere un augurio per la vostra comunicazione carismatica comunicazione carismatica da oggi cambia tutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti